Ristrutturazione e miglioramento sismico sono i lavori eseguiti con 3,5 dei 44 milioni destinati all'Abruzzo nell'ambito del progetto Hashtag Scuole Sicure di Renzi. La scuola media Dante Alighieri di Spoltore non solo è rientrata a far parte del primo elenco dei 1639 istituti redatto dal governo per la messa in sicurezza, ma è anche la più finanziata, cioè l'istituto che ha ricevuto il maggior importo. Abbiamo garantito una scuola più sicura rispetto a prima e abbiamo ammodernato, ammodernato con degli standard che credo in regione Abruzzo non ce ne siano. Oltre che una scuola più sicura, questo edificio sarà un edificio scolastico in classe energetica A e forse anche di più, mi dicono adesso che stanno facendo le certificazioni, quindi risparmieremo veramente tanti soldi e c'è anche l'aspetto sostenibile della scuola. Si può migliorare un edificio scolastico datato? Sicuramente sì, questo si può fare ovviamente con degli interventi particolari, tipo quello che è stato fatto in questa scuola, dove noi qua abbiamo completamente ricostruito tutti i pilastri ex nuovo, rifatte tutte le armature, sia verticale che tutti gli staffaggi orizzontali delle strutture, tutte le trave sono state rinforzate con delle fibre di carbonio, così come tutte le staffe dove mancavano, perché era un edificio ovviamente datato questo, è un edificio che risale agli anni 60, quindi ovviamente con tutte le problematiche delle strutture che sono state costruite negli anni 60. Lei prima mi parlava di differenza tra miglioramento sismico e adeguamento, qual è? Il miglioramento vuol dire che io devo portare l'edificio a un grado di sismicità inferiore, l'adeguamento vuol dire che io devo portare l'edificio che deve rispondere ai requisiti, che se succede un terremoto l'edificio comunque deve resistere, può avere ovviamente dei danni, può subire dei danni, ma non devono essere danni che portano al crollo o comunque alla perdita delle vite umane, non può portare a una cosa del genere ovviamente, se noi l'edificio lo consideriamo adeguato sismicamente.